Partita, che partita da infarto cardiaco, cioè, non volevi essere nei panni di queste due tifoserie, cazzo, io non so, cioè, ti attaccano al defibrillatore, figa, quando vedi delle partite così, cazzo, vittoria all'Argentina, io direi vittoria, alla fine anche meritata dopo una partita, raga, troppo gagliarda, parte male, sembrava che ci dovevamo scacciare i marroni, poi, cazzo, Leo Messi si inventa il go del 1-0 di Molina, poi batte il rigore, fa tutto lui, Lele Adani, impazzisce, diventa, diventa, cazzo, diventa assatanato, la partita la guanta l'Olanda a un secondo, penso, dalla fine, però, raga, lasciatemelo dire, questo è puro spettacolo, pure emozioni, questo è qualcosa di eccezionale, un mondiale così, un quarto così è incredibile, incredibile, mi sono emozionato, io, che non sono tifoso, né dell'Argentina, né dell'Olanda, quindi, raga, bello, 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 buonanotte a tutti, raga, sempre forza mia, ci vediamo domani.